Il Cammino parte da Fossombrone, al convento dei Cappuccini di Fossombrone e arriva fino ad Ascoli Piceno. Sono 400 chilometri di Cammino, snodati attraverso 17 tappe. Il centro è proprio il convento di Camerino, che è il luogo di nascita dei Cappuccini, dove nacquero appunto nel 1528. Presentato ufficialmente alla comunità il Cammino dei Cappuccini, un percorso che da settembre prossimo attraverserà i mar che da nord a sud, attraverso le pendici di colline e montagne, con il mare sullo sfondo, un cammino per rivivere la storia e riscoprire se stessi, sia nella solitudine che nell'incontro con l'altro. La possibilità di incontrare i Cappuccini di oggi, i religiosi, di essere accolti nei conventi e perché no anche di fare qualche passo insieme. Alla presentazione, oltre al presidente Acquaroli, anche l'esperto di cammini del Ministero della Cultura, Paolo Piacentini, e soprattutto fra Roberto Genuin, ministro generale dei Frati Minori Cappuccini. La pandemia ha rivelato la necessità enorme del rapporto umano. Non è solo il lavoro, non sono solo i soldi. Questo credo sia la cosa principale di una riproposta di questo genere. Se noi riscopriamo questo, di fatto diamo una mano alle persone concrete che vivono, che camminano, che faticano, che soffrono. Questa è partecipazione alla vita dell'uomo. L'incontro di Camerino è stato anche l'occasione di una firma di un accordo tra comune, università e provincia delle Marche dei Frati Minori Cappuccini. C'è la possibilità veramente di ritrovare se stessi nel cammino e di ritrovare dei valori di cui abbiamo assolutamente bisogno. E credo che saremo pronti per celebrare poi insieme all'ordine stesso i fantastici 500 anni di fondazione di quello che è l'ordine sicuramente più importante a Camerino, ma uno dei più importanti in Italia e sicuramente uno dei più importanti nel mondo. Questo percorso segna ancora una tappa secondo me fondamentale per ricordare quanto di importante questo territorio ha da offrire e da far conoscere. Quindi sicuramente un appuntamento molto significativo che ricorda a tutti quanti che cosa è Camerino, cosa è stata e cosa dovrà continuare ad essere.